Da diverso tempo ormai la Corea del Nord è diventata una delle più spinosi questioni geopolitiche non soltanto e non soprattutto per la nazione in sé. È già capitato in passato che altri stati si siano dotati della bomba atomica, dell'arma nucleare prima della Corea del Nord ma per il fatto che la Corea del Nord, Pyongyang e il suo regime si trovano esattamente al confine tra la Cina e un dispiegamento molto notevole di militari americani in Corea del Sud. Di fatto la Corea del Nord è uno stato cuscinetto posto tra la Cina e gli Stati Uniti, tra due potenze antagoniste. Il punto è proprio questo. Da un lato nei calcoli americani c'è la necessità di inglobare nel lungo periodo la Corea del Nord nella Corea del Sud attraverso una riunificazione che poi conducesse le forze militari americane direttamente sul fiume Yalu, quindi al confine con la Cina. Da parte di Pechino invece c'è invece la necessità di mantenere la Corea del Nord in uno stato indipendente proprio per prevenire tale evenienza. Se Pechino potesse scegliere vorrebbe avere una Corea del Nord anche con questo regime ma senza la bomba atomica. In caso contrario comunque preferirebbe che Pyongyang restasse un regime indipendente ed è proprio su questa questione, su questa battaglia che si gioca tutta la vicenda nordcoreana. Da un lato, ed è questo un altro elemento di profondità, l'acqua del Nord potrebbe un giorno attraverso un missile intercontinentale colpire la costa occidentale degli Stati Uniti. Quindi per Washington si tratterebbe di uno scenario doppiamente intollerabile perché da un lato avrebbe a che fare con una potenza nucleare che cambia gli equilibri geopolitici nell'Asia Pacifico e impedisce all'intera penisola di riunificarsi. Inoltre l'America si troverebbe sotto schiaffo di una minaccia atomica direttamente sulla sua costa occidentale, sulla California, per intenderci. Tutti elementi che potrebbero condurre anche nel breve periodo ad uno scontro armato, scontro armato che sarebbe di proporzioni anche devastanti, sebbene in una forma convenzionale basti pensare alla possibile rappresaglia, se non certa, da parte di Pyongyang nei confronti della capitale sudcoreana, ovvero di Seoul, dove vivono circa 20 milioni di persone e da ultimo un possibile intervento anche della Cina in una seconda fase per impedire che gli Stati Uniti poi creino un regime alternativo anche involontariamente durante il conflitto stesso.